Le scommesse si pagano soprattutto quando alla base c'è la lotta alla SLA. Con questo spirito il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha voluto pagare il suo bellissimo pegno. In caso di promozione in Serie A torno a casa in bicicletta, da Lecce a Benevento, ben 380 km pedalando da vero e proprio atleta, ma soprattutto da testimonial di una causa che aiuterà le famiglie leccesi, beneventane, salernitane e avellinesi che assistono i malati di SLA. Lo abbiamo intervistato al suo arrivo nella tappa intermedia di Altamura e gli abbiamo chiesto se sono più difficili le curve della Puglia o un allenamento con i verani. Sicuramente le curve della Puglia perché comunque è un'esperienza nuova e non sapevo a cosa stessi andando incontro, tra virgolette, perché comunque qualche uscita in bicicletta l'avevo già fatta, però è sicuramente un altro sport a confronto al calcio. Gli allenamenti di Liberani, insomma, li conosco molto bene e sì, faticosi, però è la mia passione, il mio lavoro, quindi li faccio con il sorriso sulle labbra. Sicuramente eravamo partiti un po' in sordina perché comunque essendo una neopromossa non è facile fare bene nel campionato cadetto, però i giocatori che il direttore della società sono andati a prendere, tutti i giocatori di spessore, siamo stati bravi a creare un gruppo importante, un gruppo coeso e soprattutto che aveva tanta voglia di emergere e di mettersi in mostra in questo campionato.